Nicola Rovella, quanti palloni hai toccato oggi? Tanti, meno male, sono felice che siamo riusciti a giocare bene e che siamo riusciti a tornare alla vittoria, che mancava ormai da tanto. Allora, questo gol che è arrivato, c'è tanto del tuo, con la tua intelligenza avresti potuto mettere a destra, a sinistra, giocare indietro, invece senza neanche guardare hai fatto questa imbucata. Un gol che non mancava da tanto perché voi segnate spesso, il problema è che ne subite tanti, erano otto mesi che non finivate una partita senza aver subito il gol. Questo quanto è importante? Questo sicuramente tantissimo, complimenti a Cleonise che ha fatto un gran gol, un bel movimento e spero che sia un gol importante per la nostra salvezza sicuramente. La vostra salvezza passa dall'ultima partita contro Sassuolo, quello che ti chiedo è molto semplice, mando un messaggio ai tuoi compagni, oggi vi siete abbracciati, facevate festa, però lo sapete anche voi, non è ancora finita? Sicuramente non è finita, c'è il mio giocare tutto a Sassuolo e sono confido in questa squadra e sono sicuro che riusciremo a vincere e a salvarci. Grazie miga.